Quando si passa dinanzi a una immagine della Madonna, bisogna dire Ti saluto, oh Maria, saluta Gesù da parte mia Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle Oggi inizia il mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna Tutta la cristianità rivolge lo sguardo verso di lei, la mamma dolcissima Padre Pio attendeva questo bel mese, come lui lo chiama Sentite cosa ebbe a dire quanto scrive nel suo epistolario Povera mamina, quanto bene mi vuole L'ho constatato di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese Con quanta cura mi ha ella accompagnato all'altare questa mattina Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare Se non a me solo, col riempirmi il cuore tutto di santi affetti Questo è meraviglioso, eh? Padre Pio che ci descrive che cosa questa mammina Lei la chiama con l'appellativo di mammina Perché è la mamma, uno dei titoli più belli che padre Pio Dava alla Madonna è proprio questo, mammina D'altronde Gesù ce l'ha data come mamma Proprio quando lui moriva sulla croce Ha detto a Giovanni, Giovanni ecco tua madre E a Maria ha detto, madre ecco tuo figlio E da quel momento ci dice il Vangelo di Giovanni Che Giovanni l'ha presa con sé nella sua casa Quindi questa mamma ci è stata fidata Padre Pio giustamente la chiama mamma Mammina mia Quanto è bello sentire che l'ha preso per mano E lo ha accompagnato all'altare Ma voi pensate, quando una volta gli dissero Se voleva andare a Lourdes Lui rispose, ma figlia mia Qui la Madonna nella mia stanza Passeggia di giorno e di notte Quella rimase sbalordita Come per dire, padre Pio era sempre con la Madonna L'ha sempre guidato L'ha sempre preso per mano L'ha sempre difeso soprattutto dagli attacchi del demonio Ah, se non ci fosse stata la Madonna A difenderlo Se non ci fosse stata lei Chissà che come l'avrebbe fracassato questo povero frate Perché lui lottava Però accanto a lui c'era sempre la Madonna che lo difendeva E noi sappiamo che lei è stata Con lei che ha schiacciato la testa al serpente Quindi Satana, il diavolo, non la sopporta Ecco perché durante a volte degli esorcismi Si dice che c'è quella lì che mi dà fastidio Perché la Madonna è sempre lì accanto È sempre lì presente Nel versetto del primo maggio della Buona Giornata Abbiamo letto Quando si passa dinanzi a un'immagine della Madonna Bisogna dire Ti saluto Maria Saluta Gesù da parte mia Bello anche questo Padre Pio che davanti ad ogni immagine della Madonna Si fermava a dire almeno un'Ave Maria Nel convento ci sono tante immagini Con tante targhettine scritte Qui si fermava Padre Pio per recitare un'Ave Maria Qui sostava Padre Pio per dire Ave Maria Ecco questo è bello anche perché ci fa ricordare a noi Che quando camminiamo per via Quando camminiamo anche davanti ad una chiesa Quando vediamo un'immagine della Madonna Ricordiamoci di dire un'Ave Maria E di dire Maria ricordati di salutare Gesù da parte mia È bellissimo questo Ecco prendiamo spunto esempio da San Pio E soprattutto in questo bel mese di maggio Andiamo alla scuola di Padre Pio Per imparare da lui ad amare la Madonna Un giorno lui disse Vorrei avere una voce si forte Da poter dire a tutto il mondo Amate Gesù Amate la Madonna Ecco ecco perché era un continuo rosario Padre Pio Rosario 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 Ave Maria Ave Maria Ave Maria Quando lui è morto sulle sue labbra Che cosa ha pronunziato? Ha pronunziato questi nomi Gesù Maria Gesù Maria Gesù Maria Che bello se fosse così anche per noi Pace e bene Grazie a tutti